12 storie eterogenee per epoca storica, ambientazione, geografica e avvenimenti narrati, tutte unite dalla capacità di ascolto e di vicinanza dell'arma. Si intitola I Carabinieri e le Comunità, il calendario storico 2024 dell'Arma dei Carabinieri dedicato al tema e in particolare alla figura del Carabiniere come punto di riferimento della collettività. Una presenza costante accanto alla cittadinanza, un filo rosso che unisce momenti di soccorso a momenti storici per il nostro paese come la recente alluvione in Romagna. Le storie descritte dalla penna di Gramellini narrano alcune delle gesta più eroiche come il sacrificio consapevole compiuto a Fiesole e altri appartenenti alla vita di tutti i giorni come il sostegno alle persone più fragili e la pandemia da Covid-19. La vicinanza, la capacità di contatto e di ascolto, le tante attenzioni piccole e grandi ai bisogni delle persone sono il fil rouge che caratterizza da sempre l'operato dell'arma e che ci accompagna attraverso i 12 racconti del calendario 2024.